Ciao ragazzi, come state? Bentornati in questo nuovo video su Destiny 2. Quello che state per vedere è il nostro ottavo di finale, il primo torneo ufficiale realizzato da Bungie su Destiny 2 in Crogiolo. Tra l'altro, per l'occasione è un torneo di beneficenza, quindi è una bellissima cosa. Potete donare nel link che vi metto qua sotto in descrizione. Durante tutto luglio, donando 7 dollari, potrete scegliere tra l'altro degli emblemi a scelta di quelli disponibili in questa campagna di donazioni. Siamo stati scelti per questo torneo per rappresentare l'Italia io, Luga e Z-Raptor. Vi lascio qua sotto i loro link in descrizione dei canali Twitch, compreso anche il mio. Non è importante da dove seguite il torneo, ma è importante farlo, perché infatti questo giovedì alle ore 21 vi aspettiamo numerosi sui nostri canali Twitch. Voglio vedere uno spam di veramente bandieri italiane ovunque, perché giocheremo il nostro quarto di finale contro un team che è sulla carta, è nettamente favorito, e quindi meglio così, così abbiamo meno pressioni. E cercheremo comunque di dare il massimo per passare il turno. È un turno particolare, si chiama Seven Colon Chaos, come vedete anche dalla maglietta che ci hanno inviato per l'occasione. Perché ci sono dei modificatori un po' particolari, vi metto qui le regole di questo turno, che poi cambieranno. Quindi già dal quarto di finale saranno diverse le regole, e molto spicy come torneo. Siamo divertiti, vi auguro una buona visione ragazzi, vi aspettiamo giovedì numerosi alle 21 per tifare tutti insieme Italia. E niente, ringrazio anche Bungie per l'occasione, per averci invitato. Raga, vi mando un bacio, vi auguro una buona giornata e vi lascio la visione di quest'ottavo di finale. Partite integrali senza musica, per farvi immergere il più possibile in quello che abbiamo giocato. Raga, bella. Queste si viano sempre. Ci sto a girare che... Una è dietro bridge. C'è tanti... Dietro bridge? Mmh. Io sono... Sì, sì, vedi. Rocket uno. Ti puscialo. Finistra. Buono. L'ha preso l'Ebby. L'ha preso l'Ebby. L'ha preso l'Ebby pesanti. Uno è dietro roga. Mi ha tirato l'Icaro, non posso prenderle ancora. Era one. Buono. One, vola, vola, vola sul missile. Ok. È full, è full, è full. Mi sta pushando, eh, Lu. Pinghiamo la bandiera. È una zone. Eh, ma... C'è ancora sulla bandiera, Morca. Eh, ma so troppo. Ok, ok, ok. L'ho aspetta a voi. 10 secondi. Possiamo già andare sull'altra. Bravo, bravo. Buono. Ho preso un altro. Andiamo sulla bandiera. Andiamo sulla bandiera. Heavy è bandiera, raga, secondo me. Tipo le condividiamo. Io ho gli ultimi secondi qua. Ok. Non vedo l'ora di vedere che cosa ci farà. Piego di fianco. Uno, uno full sinistra, raga. Fuori. Non posso piccarlo che ho la... Aspetta. One, uno. Inizio a cappare. Uno vi pusha. Buono, bravo. Presa la zona, presa la zona. Scappiamo. Occhio sicuro, l'uno arriva da full sinistra. Se vuoi mi avvicino, te lo tengo... Guarda, te lo tengo qua. Pesante in 10. È one da me. Presa. Eh, Willy, quelle sono buone da prendere. Da prendere. Sì, sì. Le prendo anch'io, le prendo anch'io. Sorry. Arriva di fianco a voi. Ok. Preso uno. Eh, dove... Ah, ok. È one shot... Bravo, bravo. Bravi, bravi, raga, bravi. Possiamo andare sull'altra zona? Non so dove. Qua. È qua. Eh, ce n'è qua. Però loro erano sempre pesanti, occhio. Io ho detto un fumotto. Mi avvicino un po', regà. Vedo vinto loro. Di cosa arrivano? Preso uno. Eh, potevo farmi l'altro, ma... Non posso, non lo vieta. Sappiamo? Due sono one. Buono, 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 va bene. Vabbè, muovi le piano, però. Arrivano in due con le pesante. Da dove? Qua. Dietro, dietro. Ah, bellissimo. Dietro, dietro, go. Ok. Tappano, eh. Ok. Ok, ok, ok. Bisogna... Qua ne ho uno, io. Ah, mi ha fatto. Maravonto lagga. Eh, oh mio Dio. Mamma mia, Lugo. Ti sta pushando, Lugo. Pesanti indietro. Sto heavy, sto heavy, sì, sì. A costo di dargli un po' di punti qua. Arrivano, eh. Buono, bella... Oh, bravo, bravo, bravo. Prendi le... Eh, non posso, non posso. C'è l'altro lì. Le prendono loro, eh. Ancora go. Dov'è la zona? Una zona... Allo spawn. Allo spawn. Problema che hanno le pesanti. Buono. Ah, va, le pesanti, eh. Preso Mark. C'è l'altro qua. Chiamiamolo... Oh, mio Dio, quanto lagga, raga. Occhio, occhio. Occhio, occhio, si tipa, raga. Ci sono troppi, sono troppi, a Willy, sono troppi, occhio. Arrivo. One shot, troppo. Mi do una mano adesso. Sono in due fuori. Presa. E pusha. E trova dentro lui. One shot. Lugo, uno. Sono in due ancora lì, l'ha curati. Ok. È da dentro, da dentro. Mi fa in tiro. Ti pusha. Eh, perfetto. Appogni. È affatto. Buono. Si sta pushando, Willy. Ok, ok. Buono, buono. Scappiamo, le ragazzi, sono venti più secondi qua. Entra da sinistra. Da destra, scusate. Buono. Qui sono in aid. Sta volando qua sopra. C'è l'ho dietro da sinistra. Eh, prendo qua. Ho due da main. Preso. Eh, va bene. Eh, hanno una due. Tre secondi, sì, si hanno... Hanno le asce. Zona dentro, B. Ah, ok. Va bene. Si entrava dentro? E arrivano. Non è arrivato. Eh, sono morto. Eh. Prego la mia. Mamma mia. Occhio, eh. Sì, sì, sì. Aspetta che... Allora, uno si è allargato un po', Diamond. Trovo a farvelo da qua. E qua l'ho uno, eh. Da noi. Qui? Sì. Sì. Oh, mio Dio. È lì, è lì, crociato sulla bandiera. Buono. Dovrei spawnare. Servono ste heavy qua. Sono due heavy, raga. Uno morto. Oh, mio Dio. Sono due one. Una sinistra, uno sinistra. Non siamo vicini che hanno la super. Ok. Buoni si dieci secondi, eh. Bene, va bene, va bene. Buono, buono, buono. Arrivo, arrivo. One. Preso. L'ultimo dove ha? Enzo, enzo. Buono. Allora, abbiamo due super, hanno il canto. Dovrei, dovremmo riuscire a farlo, quello. Heavy in dieci secondi, raga. Trent ultare su heavy. Vai. Vado. Vai. Doppio, hai a forza. No, perché... Ma come... Cos'è successo? Buono, va bene. L'altro era box, Willy. Va bene, va bene, va bene. Voltato sulla zona. Muore, 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 muore. Ok. Ivi, ivi, ivi. Preso heavy. Aio. Dov'è? Morto? Bravo. Dov'è una barricata? Sì. Arriva? Ok. No, l'ho missata. Mannaggia. Smoke. Non siamo per forza sulla zona. Sì, sì, sì. Uno da dietro, da fuori. Due, due, due. Due dietro. Buono. Buono. Zona, zona, zona. Questi otto secondi ci servono. Da me, da me, da me. Prendiamo le heavy? Ci stiamo a prendere anche le pesanti, è top. Uno dai, Amon, da. Ah, mi ha fatto. Peccato. Eh, ah. Chi ti vuoi, raga? Buono. Due, che è lì. Quelli si inizia a girare zona, secondo me è top, arrivo. Eh, ma. Ah, è qui la zona. Dov'è? L'inizio. Uno, due, due, due. Ce l'hai, ce l'hai. Vi ha la conquista. Serve una mano lui, davanti a noi, davanti a noi. Vi, 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 vi. K, K, che vinciamo con questa. Guarda sinistra, guarda sinistra. Tanto devono, non possono via le pesanti, devono bussarci. O zero, zero. Bravi, bravi, bravi. Buono. Buono, 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 buono. Buono. Bravi, bravi. Da B non vedo niente. Da B uno, ti ho la niente. One, uno. Due, one, raga. Buono, buono. Fatto. Stavamo, bravo. Prendiamoci le special. Le heavy sarebbe da prendere, raga. Sì, sì, c'ho una lancia davantina. Non smash a one. Eh, adesso è brava. Presa. Ti push a uno. Mi ha fatto, mi ha fatto. Prendere heavy. Ti dico se ti pushano. Cioè. Sì, sì. Vabbè, vabbè. Un po' di più. Con due zone, eh. Voglio. Ho preso uno. Hanno almeno due spade. Sì. Un pulse. Due pulse. Due pulse sulla zona, raga. Un e one. Buono. Eh, questo sarebbe da provare a pushare, raga, secondo me. Andiamo, andiamo. Ti dici secondi. Una a sinistra, eh, Willy. Preso uno. Preso. Preso, preso. Va bene. Heavy, heavy. Pesanti, pesanti. Metto scudo, eh. La zona è su heavy. Vai, vai. Guardi dietro, io. Prendetela, prendetela. Piale. Ok. Dobbiamo tutti i prezzi. Abbiamo... Due spade. Preso uno. Ok. Mi ha laserato. Buono, buono. Cap. Allora, uno vi pusha. Bridge, bridge. Destra, destra, Willy. Arrivo anch'io adesso, eh. Odice, mi ha laserato. È da fuori. Bravo, Mark. Mark sinistra. K'anno adesso, Lu. Buono, buono. Se riusciamo a k'appare, godo, eh. Due. Buono, buono. Capiamo, ragazzi. Sono 20 secondi. Andiamo. Andiamo. Buono. Facchiamo sta roba, così non ci basta. Sono tutti qua. Sono una di da quest'altro lato. Ok. Li aspetto al box, eh. Li sento, li vedo, li vedo. Li usciano. Uno. Due. Bravo. Un altro scale. Ho visto. Sta scappando, raga. Andiamo a zona. Va fuori a zona, va fuori a zona. Chiudiamogli la strada. Adesso. Segura me. Buono. Andiamo a zona. Capo, eh. Sì, sì. Speciali dietro, se servono. Sì, sì, le piglio, le piglio. Quelle heavy sono buone, però io ce l'ho ancora. No, ce l'abbiamo ancora, sì. Abbiamo... Cerchiamo di... Di fare più punti possibili, sì. Sì, sì. Mi interrompiamo. Mi dico se arrivano da qua, ragazzi. Sì. Di dietro non vedo nessuno. Madonna, come gira quella? È one shot mark. Vi pusha... Bravo. Ancora uno. Bello. È rimasto uno da due. Va bene, va bene, Lugo. Arriviamo. Bello. Bravo, via, via. Te lo faccio io, te lo faccio io, questo. Sì, sì. Bravo. Capiamo, capiamo. Buona, le nostre realtà. Mark si è il lato. No, è. Full sinistra, col pulso. Ho visto, ho visto. Eh, dov'è la zona? La piano dei Eevee. Ok, ok. Hanno due spade. Vanno verso B, verso la zona, da passano misi. Due bridge, sì. Ha sprecato un colpo, eh. Con me. No, si riusciamo a prendere quella zona lì. Potrei andare Diamond. Ah, ok. Ok. Eh, perché giustamente con la spada mi vede. Quindi. Allora, uno stacca... Oh, madonna. Come girano queste cose? In previsione. Evi di nuovo, raga. Sì. Buono, buono, Willis. Due presa. Ah, ce l'ho dietro, ancora. E vi puscia Diamond, fuori dalla porta. Un attimo, un attimo, un attimo. Sono sui. Io ho preso, ho preso zona. Buono. Arrivo, Lugo. Salvati, Vivi, Vivi. Bravo. Arriviamo? Vabbè, io non posso. Non posso raccogliere quell'evi, raga. Vabbè, uguale, uguale, vabbè. Sì, è la zona. Buono, buono. Arrivo, stanno andando via. Prendo... Arrivo, eh. Ci prendo Evi, prendo Evi. Pia, 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 pia. Oh, sorry, 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 sorry. Tranquillo. Vado da qui, da qui, raga. Entriamo, ora. Entriamo, raga. Da tutti i lati e la prendiamo. Ma merda, si usa questo coso. Preso. Va bene? Ho visto, ho visto. Cappo. Faccio un po' di boom. Entra da main, entro da main. Preso. Da, da sinistra. No, io ho una fuga. Però usalo sulle pesanti per le cagliele. Ok, ok, ok. Noi ne abbiamo due qua, Willy, eh. Forse tre. Sono con te. Te ne faccio uno, forse. No, perché... Ok, buono, buono. Prendo l'ascia. Evi, le prendo? Raccolgo? Sì. Almeno non le piano loro. Potrebbero essere spuonati vicino a zona, occhio. Uno. E one qua dietro da me? Ok, l'ho preso. C'è l'ultimo fuori. Ha poppato il canto. Ce l'hai davanti, Lugo? Sì, sì. Va bene, va bene, va bene. Devono... Tre punti, tre punti. Tiro le asce qui. Hai visto, Giambè? Occhio, Sede, arriva. Ho visto. Eh, sono morto. Mi ha distrutto. Avete le asce lì. E non ho cappato. Conviene prendere le heavy. Uno su scale. Scale a sinistra, Willy. Arrivo. Bravo. Ancora? Poppo, eh. Uno va fuori, schermo, da destra. Presi, presi. Cappo e dovremmo vincere, eh. Zona e dovrebbe battare. È qua, è qua, è qua. Preso, preso. Buono, bravi, raga. Ottimo, bravi tutti. Buono. Non so qua, quindi saranno sopra. Sì. Me lo soppresso. Visto? Uno è one shot dalla granata, eh. Bella, bella, bella. Hai contesa. Vittato con la nade a destra. Lu, se tieni a sinistra, bucci, eh. Noi proviamo... Che adesso fusci. Ok, no, le pesanti sono da noi. Buono. Abbiamo... Ah no, da loro. No, what the fuck. Dove sono le heavy? Le heavy sono sotto. Mi ha fatto. Le prendo, eh. Sì. Arrivo, arrivo. Ah, peccato. Non posso fare nulla, co. Mi... Mi tiene... Mi tiene in fondo, raga. Sì, sì. Eh, aspetta noi. Lo prendiamo da dietro. Un... Arrivo. Due. Vai. Buono. Mi puscia. C'è un'altra a destra. Ma non muore, what? Lo so... Ah, ho preso il clone, ecco. Davanti testo è one. Preso uno e l'ha sponato un altro qui. Vado heavy, raga, eh. Potrebbe spawnare uno su heavy. E qua da me, infatti. Arrivo. Zona in dieci. Prendi le Lugosi. Se la fai. Prendi qualcuno dietro da me, eh. Arrivo, arrivo, Willy. Tanto... Sì, sono da te sicuro a sinistra. O a sinistra o dentro. No, a sinistra non li vedo. Box, box. Ma come si usa, raga? Niente. Pesa. Ma non dovrebbe tirare subito il colpo. E... Andiamo in zona. Sì, è sotto, eh. Arriviamo. Ma che è sta zona? È un po' brutta questa qua. Non hanno le spade però, noi sì. Buono, Lugo. Puoi entrare? Non ho due, tu di me. Buono. Bell, bell, bell trade, bell trade. Per un altro sulle scale. Arriva adesso, arriva main. One shot preso. Ma è meglio di nade. C'è l'ultima sinistra, one. Eh, niente. K adesso, ok. Eh, ma ci hanno le pesanti. Ha preso levi, ha preso levi, lei. Ha preso levi, lei, sì. Non è da tirarli, purtroppo. Sarebbe ottimo, non è della sotta. Non posso andare in fondo. Mmm, ok. Sei in lato. Ho preso. È qua dietro, eh. Buono. Va bene, va bene. L'hanno ripresa. Bravo, Lugo, arrivo. Facciamocelo, one. Pesanti. One. È ancora one, dietro. Bravo, bravo. È tuo, Lugo. Bravo, bravi, raga. Ehi, e poi andiamo, cappiamo, cappiamo. Sta cappando da sola, eh. Per ora. Forse adesso no. È dietro il clone. Buono, cappiamo. Arriva made. Visto? Riot è one, eh. Qua dietro, raga. Io lo pusho, è qua fuori al box. Vai, vai. Ah, ha girato, ha girato, mi fa, eh. Buono, buono. Allora fuori sinistra, io copro garage, io copro garage, va bene. Lugo, ti copro, eh. Sì, sì, sì. In realtà, se tu che ti copri, tu, da me qua. Bravo, bravo. Arriviamo, arrivo, mi prendo levi con te. Metto la barricata, così, quasi. Sì, sì. È dietro là alla porta. Buono. One. Vai, piano ti raccolto. Capiamo. Arriva, Lugo. Buono, Lugo. Buono. Non vedo niente. Sono pesanti sia zona. Mamma mia, Raptor mi ha fatto via un colpo. Non so. Guardo io a destra. Allora, uno è full sinistra da me, qua. Due full sinistra da me. Tre, tutti e tre lì. Sono tutti e tre là. Mi avvicino un attimo alla zona. Preso Riot. Bravo, bravo, bravo. Ce ne sono le pesanti in occhio. In fondo, eh, raga. Io l'ho prese. Ho tre dato sulle scale. Era ancora lì, eh. Forse se lo fa Willy, se lo fa Willy. Buono, buono, buono. Non so dove è mashed, eh. No, qua si è spawnato tu. Spawneranno garage o da B. Io sono close alla super. Sento B, 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 B. Io ho anche la super. Contesa. Mi fanno, eh, mi fanno. Devo scappare, Willy. Zero, zero. Buscia, bella, bella, bella super, bella super. Cappo, eh. Non posso perché... Contesa, muoio, muoio, muoio. Se lo metto one, buono. Neanche. È vero che qua sono tre milì. Ecco perché continuo a tirare i pugni. È destra, Willy? Il fogo. Prendo la via. Da dietro da Long. Va bene, va bene. Tanto la zona è finita. È qua da noi. Oh, sì. Sopra, Willy. Da dietro. Capiccia. Vengo... Cappo, eh. Noi teniamo tu a usare la super ammazza. Ok. Levi, tanto sono davanti a noi, ragazzi. Vogliono prenderle. Una per forza venire qua. Un'unità con la mia nade. Unità con il mio fumogeno. Da dove, Lu? Uno da sinistra. Buono. Bravo. E la due lì. Non l'ho preso. Non posso usarlo, sto coso. Ho preso uno. Mi ha frizzato con la lancia. Bravo, bravo, bravo. Bravo, Will. Bravo. Prendi lì. Cioè, Mesh di lì. Non ti pusha, non ti pusha. È ancora fuori. Sì, sì. Ma io devo tenere a zà. Sì, sì. Tanto... Sta pushando. Occhio, Lu. Preso Mark. Bravo, bravo, bravo. 11 secondi, raga. Vinciamo con questa, mi sa. Ce la facciamo. Bravo. Dobbiamo fare tre punti. Dietro di noi. Ah, far le piazze. Per un punto, ok. Buono. Cos'hanno tirato? Non vedo più niente. È un bico. Uh, l'ha preso? No. Ma l'ha fatta pure lui, che sfiga. Lei. Va bene. Vabbè, adesso le devo usare, raga. Le notate tutte, raga. Ma no, ma non è vero. Prendelo una volta. Sì. Asce. Io quasi, quasi, ulto, raga. E prendiamo sta zona. Ho prendo... Eh, vi, evi prima. Con calma. Eh, ma ci arriveranno loro. Presa. Ok. Come dietro? Contesa? Ah, è lì nell'angolo, raga. Buono. Preso. Dietro di te? Ah, vabbè, abbiamo un'ultata. Un'ultata, un'ultata. Eh, da solo all'angolino a penetrare. Ok, dietro, dietro al muretto. Quattro secondi. Io prenderei l'altra, raga. Prendiamo l'altra con la super. Tiro un fumaggiano qui sotto. Sono morto da morti in fondo, eh. Ho preso uno. Occhio. Peccato. Ho visto, ho visto. Vabbè, a trascendenza, a meno che ho la nade, ma... Se K, non gliela tiro. Vado, vado. Vado da full qui. Vai, vai. Ci siamo pure noi dietro. Mork preso. Buono, sappiamo. Ah. Buono, va bene, dai. È mezza nostra, è mezza loro. Non fanno punti. Nessuno fa punti. Vinci, va per primo, vinci. Vai, vai. Soppio, buono. Entra, entra, entra. Ah, è nato dietro, main. È l'ultimo. È l'ultimo, lui, davanti a te. Eh, sì. Mamma mia, one shot. Di nuovo sta zona. K, per A, eh. È scappato. Ha preso la spada. Sì. No, buono. Eh, dobbiamo prendere, ragazzi. Noi perdiamo questa zona qua. Perché sono... Quaranta secondi. Quaranta secondi, sì. Eh, come entriamo? Boo. Uno morto, buono. Forse riesco a prenderla? No, per poco. È lì, alla destra, raga. Dietro di voi. Let's go. Bello, buono, bravi. Mamma mia, abbiamo cosintato. Che cazzo. Eh sì, perché non riuscivamo più... Sì, 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 sì. Gigi. Gigi. Grazie. Grazie a tutti